Amica mia carissima che piacere rivederti dopo tanto tempo mamma mia ma come sei bellissima il tempo per te non passa male su vieni con me ti offro un bel caffè al bar si è diventato spendacione un caffè io mi ricordo che eri dirchio 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 e si cambia nella vita si cambia senti amico mio ma abiti sempre a Napoli no sono andato ad abitare a Roccaraso a Roccaraso con tutto che è la neve col freddo e mi metto vicino alla stufa e a volte fa proprio freddo freddo e mi metto più vicino alla stufa e se viene un freddo eccezionale come fai e beh a questo punto l'accendo